Ciao da Amiopilates, oggi ti propongo un esercizio per l'apertura del dorso e delle spalle. Se ti ritrovi spesso in una posizione curva in avanti, ricordati che bisogna agire su due fronti, uno la schiena e due sull'apertura delle spalle. Per la schiena ci mettiamo in diritti il più possibile, mettiamo una mano sopra la testa e spingiamo la mano verso l'alto. Togliete la mano e mantenete la sensazione nella schiena. Intreccia le dita, metti le mani dietro la mucca, inspira, apri i gomiti all'indietro il più possibile, chiudendo le scapole dietro la schiena, butta fuori l'aria e avvicina i gomiti chiudendoti in avanti. Inspiro, mi apro all'indietro e fuori l'aria mi chiudo. Fai attenzione a non inarcare troppo la colonna, né in un senso né nell'altro. Ripeti 4-5 volte questo esercizio, anche più volte al giorno. Ciao, buona giornata!